Forza, da questo ponte! Arrivano! Ok, ora c'è uno Swarmark. Quanta volta dovrà venersi la scuola della sua stassa! Arrivano! Asperito, operate le volle! Missili in arrivo! Lancio! Arrivano! Trassi lanciati! Missili lanciati! Aspetta, stiamo ricaricando! Aspetta, non posso ancora farlo! Missili in arrivo! È stremato, ma non è ancora morto! Suormark è distrutto! Ora andiamo via da qui! Sì, ok! Ma come? Ehi ragazzi, mirate a quel muro! La creiamo noi un'uscita! Mi sembra una buona idea! Ehi ragazzi, tutto bene laggiù? Finora tutto ok, sai cosa ci aspetta più avanti? Vedo molte rotture di scatole! Anche belle grosse! Grosse? Se sono grossi non ci spaventano! Ha ha! La storia della mia vita! Ha! A presto! 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 A presto!